Il più cordiale e ben connesso giunge a tutti quanti voi, gentilissimi web radioascoltatrici e web radioascoltatori da Roberto De Angelis. Parliamo adesso di un argomento particolare, di un'associazione che è Adra Italia Ollus, quindi senza scopo di lucro. Adra Italia è l'agenzia avventista per lo sviluppo e il soccorso e Adra Italia si impegna affinché la tua solidarietà possa incontrare il vero bisogno. Sostieni Adra Italia per dare forza ai progetti di questa associazione Ollus. Ogni piccolo gesto fatto col cuore potrà contribuire a colorare la vita di qualcuno. Per effettuare una donazione puoi fare anche un versamento in banca o in posta ai seguenti riferimenti. In banca per la tua donazione puoi effettuare un versamento sui conti correnti bancari di Adra Italia e comunicare i tuoi dati per usufruire degli sgravi fiscali. Se ti recherai sul sito di Adra Italia, se ti collegherai col sito di Adra Italia, troverai il relativo IBAN bancario che è l'IT 95E 01030 032 03 00000 866 G0G 909. Mentre al contrario imposta per la tua donazione potrai effettuare un versamento sul conto corrente postale di Adra Italia e comunicare sempre i tuoi dati per usufruire degli sgravi fiscali. Il conto corrente postale è l'160 800 04 intestato ad Adra Italia, Lungotevere Michelangelo 7000 192 Roma. Stop!